Da Virginia a vita, 19 agosto 1924, Monk's House, Rodmell, Sussex. Mia cara vita, sei tornata? Hai finito il libro? E quando ce lo fai avere? Eccomi qua, che scocciatrice con tutte queste domande. Ho goduto della tua lettera dalle Dolomiti, così intima. Mi ha anche fatto soffrire parecchio, senz'altro il primo stadio dell'intimità. Niente amici, niente cuore, solo testa, indifferente. Ma che importa? Ho goduto del maltrattamento, moltissimo. Come potevo pensare che scalare le montagne fosse una cosa romantica? Forse che non sono cresciuta con un Alpenstock in camera da bambina e con una carta geografica delle Alpi alla parete consegnate tutte le vette scalate da mio padre. Naturalmente io preferisco Londra e le Paludi e non continuo, altrimenti ti scrivo una lettera intima e ti piacerei ancora meno, molto meno di adesso. Però dammi notizie del libro, per favore. La tua Virginia Woolf. Grazie.